musica oppure possiamo mettere si esatto e con la batteria sei un pelo limitino una qua e una di là e una di là riso f2.8 dai facciamo un progetto alla musica futurista alla musica al futuro cheers ok audio motore partito scena 3 terza un attimo tempo set non la rifacciamo quando sbattiamo se non se ne accorge Marco guarda qui era dietro una cava e dovevo uscire e mangiare questa comparsa e guarda questa mi chiedevano di dire qualcosa ma solo con i versi di versi pronta? tesoro è andato via cut la prima c'era questa non mi sembrava un errore sembrava un'interpretazione diversa questa non la facciamo con questa, è un po' più leggera allora, come si fa a stampare una di queste? aspetta, guardiamo io vi saluto ciao grazie Pier, grazie mille ciao, ciao ciao a tutti, ciao oh grande, grazie mille ciao 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 arrivederci grazie ciao ti sentiamo audio motore gira ci sta in minutaggio? scena 4 take 15 12 minuti perfetto set ciao 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 Alla prossima! Allora, macchina, gira, scena 4 take 16, set, vedi, sempre l'audio, buona, set, azione! Alla prossima! Alla prossima! Alla prossima!